Ciao a tutti e benvenuti del reich clan io sono Arè. Siamo confini e entronati dopo un mese su Call of Duty Infinity Warfare Oggi ragazzi siamo qui nel credo secondo, credo, episodio della Road to Black Sky Oggi ragazzi siamo qui che vi devo portare due armi e sia il Valk che ho fatto oro sia il Type 2 che ho fatto oro Oggi ragazzi con questo video ho finito tutti i fucili d'assalto, ho fatto sia l'NV4, sia la REC, sia il Type 2, sia il Volk e sia il Kebar Oro E quindi ho sbloccato finalmente la diamante come appunto vedete anche in questa clip, appunto mimetica diamante sbloccata Allora devo salutare anche due miei amici, saluto Simone e Mirko, quindi me l'avevano chiesto quindi li saluto in questo video Ritornando a noi ragazzi, che dire, devo dire che i fucili d'assalto sono stati un po' pallosi da portare a fare oro Perché per fare gli ordi devi fare 160 headshot oltre tutte le altre sfide e devo dire che 160 headshot per ogni arma è una rottura di palle stratosferica E veramente, per fortuna è che le mitragliette non è così, per fortuna E però mi sa che i fucili, le mitragliettrici leggere siano invece con gli headshot Comunque, ritornando a noi, come appunto vi ho fatto vedere, ho sbloccato la diamante Che veramente, devo dire che mi piace molto, devo ammetterlo, pensavo peggio sinceramente E niente ragazzi, in questa invece alta parte di clip appunto riesco a completare il Type 2 Calcolate che questa clip ce l'avevo da 31 giorni Ehm, che poi, essendo che dura solo 30 secondi perché avevo finito il Type 2 senza accorgermene Pensavo che dovevo ancora fare un'altra mimetica, invece l'avevo finito e quindi mi sono trovato tanto impreparato Comunque, scusate il lag di questo fine clip Spero che comunque il video vi sia piaciuto Lasciate un like, un commento e ci vediamo domani con un prossimo video Bella Bella